Presentati ieri le liste dei candidati che concorreranno a un posto al Parlamento o al Senato alle prossime elezioni del 4 marzo. Quest'anno la novità di una nuova legge elettorale denominata Rosatellum, che esprimerà per la Sicilia alla Camera 52 deputati, suddivisi in 25 seggi per la circoscrizione della Sicilia 1 e 27 parlamentari per quella della Sicilia 2, mentre al Senato andranno 25 seggi. Il voto alla Camera sarà suddiviso in collegi uninominali e plurinominali. Nella circoscrizione Sicilia 1 i collegi uninominali esprimeranno 9 parlamentari, mentre quelli plurinominali ne eleggeranno 16. Ma vediamo chi sarà interessato nella nostra provincia direttamente all'elezione alla Camera. Nel collegio uninominali di Agrigento i candidati sono Sodano Franco per il centro-sinistra, Pisano Calogero per il centro-destra, Guzzetta Bianca per liberi uguali, Di Cristina Giussi per potere al popolo, Coniglio Sergio per il popolo della famiglia, Suterra Sardo, Fabrizio per casa Pound. Nel collegio uninominale al Senato in lista per quello di Agrigento sono Iacono Maria, deputato uscente per il centro-sinistra, Vincenzo Giambrone per il centro-destra, sindaco di Cammarata, primo delle nonette alle recenti elezioni regionali, Calogero Zammuto per la lista di Grasso, liberi uguali, Gaspare Marinello per il Movimento 5 Stelle, Marrone Carmela per la lista potere al popolo, Di Matteo Nicola per la lista il popolo della famiglia e Continuo Giovanni per casa Pound. Per la Camera al proporzionale nel collegio di Gela, Agrigento, Mazzara del Vallo concorreranno per il PD Daniela Cardinale, capolista Marco Campagna, Teresa Diadema e Angelo Galanti, per la lista civica popolare Valentina Castaldini, Giuseppe Nobile, Rosetta Vaccaro, Fabrizio Turco, per la lista insieme Pietro Lonigro, per la lista Europa Francesca Turano, Giancarlo Ciulla, Zelda Raciti, Giuseppe Nicosia, per Forza Italia, Giussi Bartolozzi, Andrea Mineo, Vanessa Sgarrito e Marcello Fattori, per i 5 Stelle, Azzurra Cancellieri, Filippo Perconti, Rosalba Cimino e Dino Terrana. Per la lista liberi uguali, Bianca Guzzetta, Cesare Loleggio, Daffne Rimaudo, Nicola Asaro, Noi con l'Italia, Mariella Eppolito, Massimo Dell'Utria, Anna Rita Bucaro, Michelangelo Montesano, per la lista potere al popolo, Michelangelo Palmero, Giuseppina Di Cristina, Marco Caselli, Laura De Marco, per la lega di Salvini, Lucendo Onorevole Alessandro Pagano, la grigendina Anna Maria Sciangula, Loreto Ogni Bene, Alessandro Cascio, per Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, la grigendina Calogero Pisano, Elvira Amata e Michele Ricotta, per il popolo della famiglia, Laura Terrana, Renato Messina, Sergio Coniglio e Rosetta Saladino, per Casa Pound, Claudia Sirchia, Vittorio Sisino, Caterina Cerre, Fabrizio Suttera Sardo, per il Senato, per il sistema proporzionale, per la Sicilia occidentale, per il PD, concorreranno capolista Daudie Faraone, Teresa Piccione, Paolo Ruggilello e la grigendina Maria Iacono, per la lista civica popolare, Fabrizio Circhitto, Manna Petrisi, Girolamo Bilardello e Beatrice Filangeri, per insieme Carmelo Sardella, per Europa 1, la lista che fa riferimento è Mabonino, Vincenzo Camponino, Dele Arrusso, Michele Sebastiano, Domitilla Giudice, per forze tali all'uscente Renato Schifani, Uriana Papateo, Nitto Palma, Domitilla Giudice, per il monumento 5 Stelle, Antonella Campagna, Vincenzo Sant'Angelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste, per liberi uguali, capolista all'uscente presidente del Senato, Pietro Grasso, Mariella Maggio, Fabrizia Bocchino, la grigendina, Teresa Monteleone, per la Lega di Salvini, Giulia Buongiorno, Dalcamo Santo, Battello Patrizio e Picone Gioacchino, per la lista Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, Raudi Sabella, Urso Adolfo, Lanza Scalea e Russo Raul, per noi con l'Italia, Bonafede Serina, Decio Terrana, Rotolo Vita, Bongiovanni Fabio, per Casa Pound Italia, Borgia Maria, Spadafora Giuseppe, Volpe Tiziana, Iacono Giuseppe, per la lista Italia-Europa, Sardegna Carmelo Fortunato, Marino Caterina, Ficarra Saverio, Leone Maria Grazia, per Potere al Popolo, Marrone Carmela, Lombardo Vincenzo, Russa Nilde, Muratore Pietro, per la lista Popolo della Famiglia, Di Matteo Nicola, De Luca Rossella, Sauna Salvatore, Rambandi Francesca, intanto per le elezioni politiche il favarese Giuseppe Arnone è l'unico candidato di Forza Italia per la circoscrizione Europa, per un seggio alla Camera dei Deputati, con la lista del centro-destra denominata Salvini, Berlusconi, Meloni. E intanto l'onorevole Riccardo Gallo, in una sua nota, esprime con piacimento a seguito della candidatura dell'onorevole Vincenzo Giambrone, coordinatore provinciale di Forza Italia, quale candidato all'un nominale per il Senato, sottolineando il giusto riconoscimento ad una personalità politica storica di Forza Italia che sempre si è speso nel nostro territorio.